Sicuramente sono assenze pesanti che dobbiamo affrontare, tra cui anche il nostro capitano, però siamo un gruppo nuovo, ci stiamo amalgamando e piano piano stiamo trovando i nostri ritmi. Noi cerchiamo di dare il massimo in ogni allenamento, stiamo trovando un equilibrio al nostro interno che ci mette in condizione di sopperire quelle che sono le mancanze. Noi comunque giocheremo anche per quelle che purtroppo per infortunio non potranno essere e quindi daremo il massimo in ogni partita che affronteremo questa settimana. È una squadra competitiva, sicuramente non a livelli astronomici come Slovenia e Francia con cui ci siamo dovuti confrontare. È una squadra che possiamo battere, sicuramente noi dobbiamo metterci del nostro per dare il meglio in ogni partita, in ogni minuto della partita. Hanno il blocco dei terzini molto forti, hanno dei tiri eccezionali. A noi toccherà il compito di cercare di arginarli, però io credo in questa squadra, quindi sicuramente potremo far vedere la nostra parlamano e quanto noi possiamo essere forti anche in questo sport. Noi ci crediamo. Certo è che dobbiamo dimostrarlo sul campo, che come sempre sulla carta magari una squadra può essere più o meno forte, ma finché il campo non decide chi vincerà alla fine non si può mai sapere. Noi ci crediamo, daremo il massimo. Il nostro obiettivo minimo è vincere queste due partite, ma anche la Lettonia ha il loro obiettivo minimo di vincere queste due partite, quindi sarà uno scontro a chi ci crede di più, secondo me, più che un discorso di pallamano in sé.